Trucazzano, siamo con Lucrezia Nicola, lei è una mazzone, come sono andati i concorsi fino adesso? Direi bene, perché è comunque terza oggi, un errore con la cavalla, ma bene, quindi sono contenta. Hai fatto le 25 e le 30, montando? Allora, questo weekend ho fatto solo la 25 per oggi, ho montato i miei due cavalli, QuickSM e Mech. E bene, speriamo di finire bene. Senti, monti con Dante Busso, com'è come istruttore? A dire, è fantastico, sinceramente sono quasi 9 anni che monto a cavallo, direi che mi sono trovata benissimo, ho avuto solo lui come istruttore, sono veramente felice. Tu e i due cavalli, sono uguali o adatti la tua monta a ognuno con l'altro, diversa una con l'altro? Allora, direi un po' diversa, perché comunque lui è da montare un po' più in avanti, mentre lei a volte, diciamo, prende un po' il via da tenere, però più o meno ci si adatta. Hai imparato a gestire bene entrambi? Sì, sì, abbastanza. Farai i campionati italiani? Sì, assoluto, children. Hai già lavorato con il tecnico federale Rick Louradour? Cosa ne pensi? Ah, direi, cioè, è stata una bellissima esperienza, perché comunque, diciamo, ha fatto capire che ci sono diversi modi per montare a cavallo e qual è quello più corretto. Ed era, che cosa ne pensa, il tuo modo di montare? Ah, è, voce, vabbè, ovviamente un po' di cose sono state corrette, però spero bene, niente, spero bene. Bene, dai, adesso ti lasciamo finire questo truccazzano. Prossimo appuntamento dove andrai? Settimana prossima di Trea e poi a Rezzo. Ok, ci vedremo poi in giro per il campo ostacoli, ok? Perfetto, grazie. Grazie a tutti.